Ciao a tutti, ci troviamo alla grotta di Ternovizza, presso Ternova, comune di Duina Urisina. Siamo con un bel gruppo di dieci persone che sono la prima esperienza in lotta, vediamo qui che si stanno cambiando e scenderemo questo pozzo di 40 metri e visiteremo questi 500 metri di rotta bellissima. Grazie a tutti. Benissimo, ho mancato il video, no no, recuperato è giusto. Gira, no, gira, gira in ospedale, no, se no dopo fai una fatica avremmo già letto da me, benissimo. Così mi aiuti un po' di attrita anche lì. Grazie. 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 Ok, grazie. 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 Grazie.